La mensa della scuola è affollata! Dove stai andando, perdente? Beh, non è il giorno fortunato di Dory! No, queste Skittles finiranno nella bocca di qualcun altro! Beh, dovrà mangiare qualcosa di non molto gustoso! Che tristezza! Ma qui non c'è posto per i perdenti! In realtà, c'è un posto libero! Ehi, puoi stare più attento! Guarda quanti fanatori! La carta igienica è un accessorio insolito! Il ragazzo che mi piace si è davvero accorto di me! Dory può continuare a sognare! Lui sta con lei! Ops, qualcuno è stato coperto da una valanga di carta igienica! Ops, è stata fregata di nuovo! Wow, c'è una nuova studentessa in classe! È Candy Bee! Una celebrità! Wow, sembra che abbia scelto la sua nuova amica! Strano! La penna ha finito l'inchiostro nel momento peggiore di sempre! Forse è stato meglio così! Forte! Wow! Milioni di fan sognano un regalo come questo! What? Come si fa a capire chi è il perdente della classe? Devi solo seguire le frecce! Spongebob ha traslocato dal fondo dell'oceano all'armadietto di Dory! E gli haters sono già qui! Wow! Queste bibite sono solo per i ragazzi cool! Ma Candy Bee non piace la gelatina! Mi piace Spongebob! Wow! Niente autografi! Ti aspetto nella mia villa! Te lo prometto, sarà divertente! Kevin, smettila di frignare! La celebrità non ti ha invitato! Ok, andiamo! Ciao Candy! Eccomi qui! È bello essere famosi! E avere un armadio fantastico! Oh! Ciao, bello! È un peccato che sia di cartone! Beh, il tuo look non va e dobbiamo fare qualcosa al riguardo! Prova questa! E questi! E questi! sta benissimo! Ora è il momento del trucco! Inizia il restyling! Saluta la clown Dory! No! Ferma! Così non funzionerà! Che bellezza! Dopo il lavoro è una buona idea fare uno spuntino! Wow! Una pizza TikTok! Wow! La cosa importante è mangiarla in un minuto! La tiktoker nerd sta ricevendo tantissimi like! È una diva dentro! Non fare il nerd! Iscriviti al nostro canale! Le nostre ragazze devono andare a scuola! Controlliamo cosa sta succedendo su Instagram! Che brutta foto! Ottimo! Questo post riceverà milioni di like! Sono davvero cool! Niente più scherzi per Dory! Wow! Una sorpresa al cioccolato! È meglio condividere con un'amica! Delizioso! Ehi Kevin! Cosa guardi? Che fallimento! La verifica è iniziata! Dory copia dal suo telefono! Che furbastra! Cosa? Non puoi nascondere nulla da Ashley! Sta imbrogliando! È inaccettabile! Come puoi venire in classe senza fare un selfie con l'insegnante? Ora è tutto a posto! Un brutto tiro porta un voto basso! Chi è la perdente adesso? Fantastico! Dory prenderà parte a un concorso scolastico! Ci sono tanti fan! Il peggiore insegnante! Candy, stai più attenta con gli striscioni! Che ballo orribile! Non voglio vederlo! Lasciate il palco il prima possibile! Ottimo lavoro! Questa cheerleader è destinata ad avere successo! Uno, due, tre, quattro, cinque! È ora di vincere! Vai, Dory! È una lotta feroce! Il gioco è iniziato! Piccola, non preoccuparti! Wow! Tutti stanno guardando la stella! È solo Ashley sta guardando le briciole! Si scopre che la sconfitta ha il sapore di una torta dolce! Dory sta ballando sulla pista da ballo! Manca solo uno snack croccante! Ahahahah! Wow! È molto gustoso e pericoloso! Aspetta, Ashley! Non essere triste! Diventiamo amiche! Oh no! Candy si trasferisce in un altro paese! Non c'è bisogno di piangere! No! Beh, Kevin non è molto forte! Sembra che ci sia una nuova nerd a scuola! Non avrà vita facile! Ma l'importante è trovare gli amici giusti! Oh! Apa? La candela non c'è... Non c'è la camera! Come Jeff e Charlene! Autore dei sorrisi